Ave Maria pietra di grazia il Signore con te tu te i benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen O Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le altre, sicuramente le più bisognose della tua misericordia Siamo tutti peccatori, ma siamo figli tuoi Regina del Monte Carmeno, prega per noi Grazie 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 Grazie